Buonasera dottoressa, ci può dire di cosa si occupa il BNL? Amministrazione del personale, inclusa assistenza a tutti i colleghi per BNL e per molte delle società del gruppo BNP Paribas in Italia. È un gruppo che spinge tantissimo sia per il cliente esterno che per l'interno sulla digitizzazione, sia per efficientare che per il rispetto dell'ambiente che per arrivare a modalità innovative in linea col mercato. C'è apertura al cambiamento, il cambiamento per passare deve essere passato in modo semplice, quindi le persone devono trovarsi dentro il cambiamento e vederne i risultati. Appena abbiamo ufficializzato l'utilizzo di MyApproval abbiamo avuto adesioni in tempo reale anche al di sopra delle aspettative. L'abbiamo presentata in modo semplice al nostro interno, in particolare al direttore risorse umane e anche alla direzione IT, facendo capire che gli effetti dell'introduzione di MyApproval potevano essere immediati. Abbiamo utilizzato MyApproval per un processo che era l'applicazione di quota 100 e i risultati sono stati immediati. Nel momento in cui abbiamo aperto MyApproval il 30% delle persone interessate dalla campagna entro le prime due ore avevano già dato adesione. È una soluzione semplice, si realizza in tempi molto rapidi e che ha una grande flessibilità di applicazione perché in tempi così brevi abbiamo già provato che può essere utilizzata in ambiti molto diversi. Grazie a tutti!